Grazie per il bentornato, sicuramente per me è un onore vestire questa maglia, non l'ho sempre detto perché comunque è la maglia con cui sono cresciuto e appena c'è stata questa possibilità da parte che il direttore me l'aveva comunicato io ho cercato, ho dato la mia volontà veramente al 150% di poter tornare quindi sono entrato in un gruppo ottimo, buono, che al giaga ha fatto cose straordinarie quindi mi sono messo a disposizione per me è stato molto molto facile comunque perché ripeto, un gruppo di ragazzi ottimo, buono, che lavorano, dove c'è armonia, sintonia quindi tutto viene in maniera più semplice. La partita, come ho chiesto la partita di domenica, noi già stiamo pensando a quello che è sabato sera a Ponte Guerra, nel calcio può succedere sicuramente abbiamo dato dimostrazione di 85 minuti veramente di calcio di alto livello e non ci deve minimamente, sicuramente le scuole che ci sono sono già passate perché già dopo domani giocheremo ancora quindi abbiamo la possibilità di dimostrare subito che, ma ancora una volta, il valore della squadra quindi sia non è passato e niente, lavoriamo per far bene, per cercare di ottenere il massimo a partita di sabato sera. No, la pressione io non la sento, però lo so che aspetti ci sono e noi, io e Rolando siamo pronti per questo sicuramente che daremo una mano a compagni e lo staff per fare strategia. No, per questi primi sei mesi a Ternana non sono stati molto belli per me la squadra non andava bene, io non ho giocato tanto, però ho scelto Arezzo subito l'ultimo giorno di mercato diciamo, quando mi ha chiamato il mio procuratore abbiamo scelto insieme qui perché io conoscevo mister dell'anno scorso che stava primavera a Juve perché io stavo a Torino, quindi conosco un po' mister e mi sembrava una scelta più migliorata. l'anno scorso abbiamo giocato tre partite con mister, mi ha fatto due gol, però io sono un attaccante fisico cercherò sempre di aiutare la squadra, dare una mano alla squadra e fare gol, che gli attaccanti piace di più. L'esordio me lo sognavano, così in parte, perché tra 85 minuti abbiamo fatto la partita perfetta non mi aspettavo di entrare così presto, sincero, perché poi ho avuto una buona mezz'ora a disposizione ero contentissimo del gol di questo stadio, la curva, la gente, è stato bellissimo, un'emozione incredibile poi purtroppo è successo qualche successo, ma come diceva già Sereni, pensiamo a sabato a fare la partita giusta a Pontevera senza portarci dietro le scorie di quella partita. Per quello che riguarda la formazione, come dicevi tu, io sono venuto qua in punta dei piedi per cercare di dare il mio contributo alla causa, a Golzano personalmente stavo facendo molto bene anche la società, la squadra e appena ho avuto la sensazione dal procuratore che c'era questa possibilità o l'ho colta al volo perché poteva essere davvero una grande opportunità per me e l'ho presa al volo. Dediche particolari sicuramente alla mia famiglia, alla mia compagna che sicuramente fanno dei sacrifici con me e ogni tanto vengono ripagati in questo modo ed è bellissimo. Grazie. Grazie. Grazie.